...e come ti faccio fare in questi giorni, non stavo pensando niente di musica che vediamo se la scuola in questi giorni, quindi proviamo a farlo tutti insieme perché, perché in realtà abbiamo fatto un grande punto di persone che credono che sia un'agenzia che potrugherà e che potrugherà uno dei primi attivisti in più latina per farlo, per mobilitarsela, si trova in tutti modi e voglio essere molto detta, insomma, cambiare spazi, si deve scronare e arrabbiarsi e quindi insomma, niente, oggi pedagliamo, insomma, pedagliamo con tutti i metri che possiamo avere e passiamo in alcuni luoghi simboli, insomma, qui è nata l'entraio, ho dato un sacco di altri libri, ho dato un sacco di altre cose e abbiamo scelto anche di parlare oggi perché, insomma, più felice o più felice, non so, più incidenza, oggi è anche il decennale di bike ride, come oggi è anche il compleanno di bike ride che è un'agenzia che si è nata, è un'agenzia che si è nata, è un'agenzia che si è nata e io ho contribuito a creare, sono tante persone che sono qui e sono tante persone che poi veniamo e hanno continuato a fare le cose, per fare le cose, l'associazione diventasse sempre per cambiare, per migliorare la modalità che si è nata. Quindi, non è che ho molto altro da dire, da dire così direttamente tante parole che abbiamo fatto ai pedagli. Cosa è un'altra cosa che vi dico, anche perché c'è Maria e c'è la famiglia di Gabbia, con cui abbiamo deciso di attivare la raccolta fondi, l'ho trovata un po' dentro sul nostro livello, sul sito, insomma, per ora stiamo raccolando i soldi, come impegni di fare le cose, magari, la possibilità, l'impegno di Gabriele. C'è anche la raccolta fondi per cui, sicuramente, sostenete, insomma, le realtà che volete. Come associazione a Bicare abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo per decidere come un valizionario che si rispondi. Anche pare che sono stati dettagli un po' di decidere prenderci del tempo, perché comunque si impegnerà veramente molto forte e sono tanti pronti e vediamo che il prossimo è stato in meglio, ossia, ci si può continuare anche con tutti i conti che ci vogliono attivare, con la famiglia, con la famiglia, con la famiglia, però ci impegniamo a far solo abbiamo bisogno di pulire il tempo. Intanto già abbiamo organizzato questo, è stato molto intenso e quindi intanto grazie a tutti per aver guardato il video e niente, pedagliamo per Gabriele. Gli sto aiutato sulla le due cose organizzative. Grazie. Grazie.